Assessore Fabio Bellini, cosa dice veramente l'OPCM 3917? Allora dice all'articolo 4,3 che quando sono stati assegnati tutti gli alloggi ai cittadini che sono in case EF, zona rossa, quei MAP residui, parliamo soltanto di MAP, possono essere destinati a chi ha la casa B o C, anche in aggregato. Però nel comma precedente, quindi basta leggere semplicemente sopra nell'ordinanza, si dice anche che questa assegnazione alle BLC può avvenire soltanto quando sono finite, quando sono state esaurite le gradatorie di assegnazione e quindi quando non c'è più alcuna persona in autonoma sistemazione può beneficiare di un alloggio. Mi spiego meglio, il Comune dell'Aquila ha 9.300 persone che percepisce il contributo di autonoma sistemazione. Da gennaio è possibile fare il passaggio dal contributo di autonoma sistemazione al progetto case EMAP, quindi adesso procederemo a fare un censimento per vedere la tipologia delle persone che sono in autonoma sistemazione, vedere quali sono i frazionisti e soltanto dopo aver soddisfatto le legittime richieste dei frazionisti che oggi sono in autonoma sistemazione, solo in quel momento potranno essere assegnati quei MAP ai cittadini che hanno casa B o C, non prima come qualcuno ha voluto far credere, perché altrimenti ci troveremmo nella situazione assurda che un cittadino oggi in autonoma sistemazione ci faccia richiesta di un MAP della propria frazione domani oppure già la fatta e ancora non l'esaminiamo e noi gli diciamo no, quel MAP è occupato perché c'è un cittadino che ha la casa B, che cosa facciamo? Li rimandiamo in albergo? Queste persone? Sarebbe un'assurdità oltre che una cosa fuori dalla legge. Chi non è frazionista cioè della città? Chi non è frazionista della città e è in autonoma sistemazione potrà chiedere comunque un progetto case o MAP. Per quanto riguarda gli ospiti della Guardia di Finanza ci sono varie tipologie. Chi abitava in città può oggi stipulare un contratto di affitto concordato o semplicemente deve aspettare che torni agibile la propria casa. Io voglio ricordare che ci sono molti cittadini della Guardia di Finanza che hanno case ATER e l'ATER nonostante i danni siano stati contenuti su quelle abitazioni ancora non inizia i lavori. Io vorrei che i cittadini, va bene che il Comune sia un punto di riferimento per tutti perché forse è l'ente più vicino e noi siamo disponibili. Però sappia anche che ci sono dei ritardi clamorosi da parte di altri enti e quindi quegli enti forse dovrebbero dare qualche risposta a loro. A settembre lei ha annunciato che ci sarà un censimento, l'ennesimo censimento. Per che cosa? Lo dicevo prima, faremo un censimento per le 9.000 persone, oltre 9.000 persone che sono in autonoma sistemazione per capire come utilizzano il CAS perché sappiamo che il Governo ha intenzione di tagliarlo o di ridurlo sensibilmente e noi vogliamo accertarci delle varie tipologie, cioè vogliamo vedere chi è che con quel contributo paga un regolare affitto di locazione e queste persone vanno tutelate più di altre ovviamente perché hanno risolto un problema a noi svincolandosi dalla loggia e dall'assenazione di CASEMAP e hanno trovato un affitto per conto proprio. Però c'è anche chi ovviamente questa necessità non ce l'ha e quindi i soldi che percepisce come contributo di autonoma sistemazione sono un di più rispetto a uno stipendio o anche rispetto a una mancanza di reddito, però voglio far notare che oltre a queste tipologie vogliamo far tenere un occhio di riguardo, ci proviamo, ci stiamo ragionando, poi lo spiegheremo bene anche per quelle categorie più sposte e magari con il CAS hanno un minimo di reddito su cui contare. Lo valutiamo e vedremo, poi quando presenteremo il modulo per il CAS 3 per il censimento spiegheremo bene la casistica. Tornando invece ai problemi della Guardia di Finanza, ci sono alcuni ospiti che protestano che non si trovano bene e che hanno delle difficoltà, quali sono? Allora, quei cittadini li ho incontrati ieri, sono stati presenti anche alla conferenza stampa quei problemi che loro segnalavano anche giustamente sono stati dovuti a dei problemi come dire, l'acqua che mancava sono dei lavori, sono delle verifiche che tutti gli anni vengono fatte purtroppo è capitato nell'albergo dove non c'è un sistema alternativo di alimentazione li abbiamo risolti, abbiamo risolto sulle energie elettriche, abbiamo risolto sull'acqua lamentano anche disagi dicendo insomma parlando di orare e di altro, però voglio ricordare che è comunque un albergo, qualunque albergo dopo una certa ora non fa entrare più nessuno a meno che uno non si paghi la notte, cioè ci sono delle regole ovviamente, è chiaro che non è la migliore della sistemazione possibile ma tra stare in quella situazione che non è Lilton, però sono sicuramente camere dignitose, situazioni dignitose e stare in mezzo a una strada io credo che chiunque sceglierebbe di stare lì, quindi in questo momento non possiamo fare altro, nel tempo speriamo di migliorare questa condizione delle persone.